Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del Tg6. In apertura alla politica, con una lettera, il sindaco di Pescara Carlo Masci risponde alla collega di Ancona in merito alle nomine per l'autorità portuale di sistema. Masci chiede più attenzione per Pescara e per l'Abruzzo e intanto Marsilio e Acquaroli, che rispettivamente sono i presidenti di Abruzzo e Marche, tentano una mediazione sui nomi. Alfredo Primante. Stiamo lavorando col ministro e con il presidente della regione Marche per trovare la persona più adeguata, proprio anche nell'ottica di spendere bene le risorse che arriveranno. Il nuovo presidente dell'autorità portuale deve garantire quell'equilibrio che fino ad oggi è mancato su tutto il territorio. Mentre i due presidenti di regione Marche Abruzzo, Acquaroli e Marsilio, tentano una mediazione sulla figura del nuovo presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centrale, che sovraintende ai porti marchigiani di Ancona, Pesaro e San Benedetto e a quegli abruzzesi di Pescara e Ortona, il clima viene surriscaldato dalle parole del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, che dalle colonne del Corriere dell'Adriatico ha parlato di manuale Cencelli per la spartizione delle portrone e degli incarichi e di mire abruzzesi sull'autorità portuale. A stretto giro arriva la risposta del sindaco di Pescara Carlo Masci, che ricorda come, in questi anni, i porti abruzzesi abbiano faticato a crescere ed anche ad effettuare la regolare manutenzione, anche per le difficoltà e le lungaggini incontrate con l'autorità di gestione. Non posso che sottolineare il fatto che l'autorità di sistema è un'autorità che comprende non soltanto la regione Marche o il porto di Ancona, ma anche la regione Abruzzo con i porti che ha e che purtroppo è stata sempre considerata la cenerentola, tant'è che il porto di Pescara oramai da circa dieci anni è inutilizzabile, i nostri pescherecci sono voluti ad andare fuori da Pescara, ad Ortona perché non riescono a rientrare nel nostro porto, abbiamo oramai dal 2014 i fanghi prelevati dal fiume con il dragaggio che fanno brutta mostra di fronte al porto turistico e non riusciamo a farli togliere dall'autorità che deve farlo, quindi c'è una situazione sicuramente di trascuratezza. Il porto di Pescara a breve dovrebbe cambiare aspetto con circa 51 milioni di euro di interventi in cantiere. L'autorità di sistema, dice Masci, deve mostrare più attenzione verso gli scagli abruzzesi con una visione complessiva di tutto il sistema del medio adriatico. E' un tema di concorrenza tra i vari porti? Ma il tema di concorrenza intanto credo che non esista perché nessuno vuole disconoscere il ruolo di Ancona e del porto di Ancona che è un porto che ha una tradizione, una storia, una forza incredibile rispetto agli altri porti, ma questo non vuol dire che gli altri porti non possano crescere in maniera adeguata per le necessità dei rapporti con l'altra sponda perché sicuramente c'è possibilità per tutti i porti di lavorare se sono porti che sono messi in grado di lavorare. Masci poi lancia la proposta di una sede dell'autorità anche a Pescara. Abbiamo delle difficoltà di rapporti purtroppo con l'autorità di sistema ad Ancona, tant'è che io rivendico la necessità di avere una sede di staccata a Pescara perché i balneatori, i pescatori devono muoversi, devono andare ad Ancona quando potrebbero fare tutto a Pescara senza avere problemi particolari. Il Partito Democratico abruzzese attacca la Giunta Marsilio sulle politiche attive del lavoro. Secondo il centrosinistra non sono stati spesi i fondi per assumere 260 persone ed aumentare così gli organici dei centri per l'impiego. Secondo quanto riportato da un articolo del Sole 24 Ore dell'8 ottobre scorso, l'Abruzzo, assieme a tutte le regioni del Mezzogiorno, è a quota zero per il potenziamento dell'organico dei centri per l'impiego previsto dal governo Conte a seguito del varo del reddito di cittadinanza. In Italia sono state in totale 1.300 sulle 11.600 previste, quelle già eseguite. I fondi ci sono, dicono i consiglieri regionali del Partito Democratico, Blasioli e Paolucci, che chiedono la convocazione di una commissione ad hoc con l'audizione dell'assessore al lavoro quaresimale affinché vengano chiariti i motivi del ritardo nella pubblicazione dei bandi che potenzialmente dovrebbero aumentare l'organico gesiguo dei centri per l'impiego di 260 unità. Dal 2019 la regione Abruzzo ha 22 milioni di euro stanziati dal primo governo Conte, a oggi siamo nel 2021, i bandi di concorso stanno a zero, zero bandi di concorso, zero assunzioni, se si esclude i 37 di categoria C, diciamo che sono però assunti con i fondi PON. Questo significa sguarnire ancora di più di quanto sono già sguarniti i centri per l'impiego, che ormai non riescono a fare più neanche l'ordinario, figuriamoci l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. C'è poi tutta la partita legata ai navigator, sono 48 quelli attualmente al lavoro in Abruzzo per 20 mila percettori del reddito di cittadinanza. I loro contratti scadranno a fine anno e, se non saranno rinnovati, lasceranno ancora più sguarniti i CPI. Per loro si chiede una proroga o una riserva nei prossimi bandi di concorso, ma la carenza di personale rischia di pregiudicare anche l'arrivo di una parte dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quelli legati alle politiche attive del lavoro. Se entro il 2022 non sarà adottato e parzialmente completato dai centri per l'impiego il progetto GOL, che prevede 5 percorsi per l'accompagnamento al lavoro dei disoccupati, i fondi europei non saranno accreditati all'Abruzzo. Perché rischia di trasformarsi invece in un autogol? Perché a questo progetto e all'adozione di questo piano e soprattutto all'espletamento di questo piano sono condizionati i fondi del PNRR, la loro erogazione e la loro spesa. E siamo veramente in grande ritardo. Veniamo ora al consueto bollettino Covid. Sono 74, d'età compresa tra 2 e 91 anni, i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Scendono i ricoveri, il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.544, 107 sono i guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.798, 33 in meno rispetto a ieri. Nel totale sono ricompresi anche 417 casi riguardanti i pazienti persi al follow-up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono attualmente in corso verifiche. 58 pazienti, 3 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. 5, stesso numero questo di ieri, sono quelli in terapia intensiva. Mentre gli altri 1.732 positivi accertati, 33 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.997 tamponi molecolari per un tasso di positività del 2,5%. Del totale dei casi odierni, 18 sono riferiti alla provincia dell'Aquila, 17 a quella di Chieti, 14 a quella di Pescara, 23 a quella di Teramo, mentre due dei positivi provengono da fuori regione. Andiamo avanti con il nostro giornale. Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha firmato una nuova ordinanza. I locali dovranno abbassare le serrande a luna di notte. Stefano Recanati. Nuova ordinanza per arginare il fenomeno della movida violenta a Chieti, che negli ultimi mesi ha creato più di un problema. Ultimo in ordine di tempo quello di alcuni giorni fa, quando intorno alle 4 di notte un ragazzo di nazionalità marocchina è finito in pronto soccorso dopo essere stato picchiato a sangue da una decina di persone lungo Viale Benedetto Croce. Così l'amministrazione comunale, in accordo con il prefetto Armando Forgione e il questore Annino Gargano, hanno annunciato lo stop alla musica a mezzanotte e chiusura dei locali a luna per tutto l'intero arco della settimana. Sono successi degli episodi assai spiacevoli nel corso delle ultime settimane ed è ovvio che nelle ore notturne, probabilmente anche con un tasso alcolemico più elevato, è più facile che si verifichino. Noi dobbiamo essere al fianco delle forze dell'ordine, al fianco di quello che, ripeto, ci è provenuto dal Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, dal prefetto e dal questore e accanto alla garanzia di ordine pubblico abbiamo avuto anche il compito di fare in modo che questo provvedimento non danneggiasse il tessuto economico della nostra città. Riteniamo di essere riusciti a garantire entrambi gli aspetti e devo dire che dalle prime ore la cittadinanza ha recepito positivamente questa ordinanza. L'orario di chiusura però sarà esteso alle 2 nel caso in cui i gestori provvedano autonomamente a far rispettare regole per evitare di nuovo episodi spiacevoli. È un modo per instaurare un meccanismo virtuoso che responsabilizzi i titolari delle attività e che faccia sentire tutti i protagonisti di uno stesso percorso. Garantire sicurezza non è soltanto un vantaggio per i nostri concittadini ma è un vantaggio anche per i titolari degli esercizi pubblici stessi perché attraverso la sicurezza loro cautelano la loro clientela e cautelando la loro clientela cautelano anche loro stessi. In occasione delle giornate europee delle fondazioni il primo e due di ottobre la fondazione Terca sorganizza a Teramo due diversi eventi. La realizzazione di un murales sulla facciata della scuola elementare Noè Lucidi ferita dal terremoto e l'apertura al pubblico di Palazzo Melatino. Tania Bonici Castelli. Per la giornata europea delle fondazioni di origine bancaria la fondazione Terca sorganizza due eventi in città. La realizzazione di un murales sulla facciata della scuola elementare Noè Lucidi e l'apertura di Palazzo Melatino al pubblico con performance teatrali in stile medioevale. Noi abbiamo scelto di realizzare il murales sul muro esterno della Noè Lucidi che è stato toccato dalle tracce del terremoto e infatti l'artista si è ispirato al tema del Kintsugi quindi queste tracce, queste spaccature, queste rotture verranno decorate dai nostri artisti proprio a dire che anche quello che si è rotto, se ricostruito con amore, con i metodi più giusti e più adeguati può diventare prezioso, anche forse più prezioso di quanto fosse prima. La scelta di realizzare un murales sulla facciata della scuola elementare Noè Lucidi visibilmente toccata dal terremoto utilizzando il Kintsugi, l'andica arte giapponese di esaltare le ferite è un messaggio di ottimismo. Scegliere una scuola ferita dal terremoto è un grande messaggio. È un messaggio dal quale emerge con chiarezza che le ferite che purtroppo al nostro territorio sono state impresse da tante situazioni anche calamitose, tanti eventi che si sono succeduti il sisma, l'emergenza pandemica che stiamo ancora vivendo, le ferite possono essere superate solo e esclusivamente attraverso la bellezza, attraverso opere e interventi che ci consentono veramente di reagire, reagire e rilanciare sulla nostra vocazione che deve essere la vocazione alla bellezza e passare soprattutto attraverso un messaggio che passa per le scuole. E poi si apre il palazzo. E poi sopra il palazzo perché il 2 ottobre per invito a palazzo, un'iniziativa che tutti gli anni porta le fondazioni di origine bancaria e le banche ad aprire le loro porte per permettere a tutti di godere delle opere d'arte che ospitano, quest'anno a Palazzo Melatino avrà un tocco speciale. Il nostro Silvio Araclio infatti ha curato la regia per delle installazioni, quindi figure storiche che richiamano appunto la storia del palazzo, quindi medievali e legate alle domus, si aggireranno nelle stanze del palazzo recitando alcune frasi. Speriamo in questo modo di coinvolgere anche i ragazzi, le scuole, proprio per rendere più viva e più vicina a loro, alla loro sensibilità, la storia di questo palazzo che è la prima erogazione che Fondazione Tercas dà al suo territorio. In vista delle prossime amministrative continuiamo a conoscere i vari candidati. Assessore al bilancio uscente della giunta guidata da Mario Semproni, Gilberto Petrucci si candida a sindaco del Comune di Penne rappresentando la continuità dell'attuale amministrazione. Avertenza Brioni e Ospedale sono alcuni dei punti salienti del suo programma e della lista Penne Viva che lo sostiene. Vediamo. Ho 41 anni, è una lunga esperienza nella pubblica amministrazione, esperienza che mi ha consentito di amministrare negli ultimi 5 anni un comune che ho ereditato con tante criticità, in particolare con problemi di dissesto finanziario. Abbiamo fatto un programma interessante che ci ha consentito di risanare in gran parte il bilancio comunale. La sanità regionale, ma soprattutto quella nazionale post pandemia, ha mostrato dei limiti. Va riorganizzata, va riformulata e in Abruzzo noi abbiamo chiesto agli enti sovraccomunali, in particolar modo a Regione Abruzzo, all'assessorato Regione della Sanità, di potenziare soprattutto gli ospedali periferici, in questo caso gli ospedali che sono presenti nell'entroterra regionale della Regione. In questo caso l'ospedale San Massimo di Penne abbiamo chiesto e ottenuto la riclassificazione sanitaria con l'elevazione di ospedali di base con sede di pronto soccorso. È iniziato un itar amministrativo, ora attendiamo la certificazione presso il Ministero della Sanità e dell'Economia, certificazione che consentirà poi al Consiglio regionale di deliberare la nuova rete ospedaliera regionale. Per quanto riguarda l'avvertenza Brioni, noi non ci siamo limitati soltanto a dare delle pacche sulle spalle dei dipendenti o dei sindacati che sono impegnati in questa attività, noi invece abbiamo fatto proposte importanti all'assessorato al lavoro della Regione Abruzzo e all'assessorato alle attività produttive, abbiamo proposto di istituire nel distretto vestino, distretto tessile vestino, un'area di crisi complessa con lo stesso modello attuato nella Val Vibrata, perché crediamo che il costo del lavoro, la pressione tributaria presente sul costo del lavoro provochi un abbassamento dei livelli occupazionali e quindi noi dobbiamo lavorare per ottenere un'area di crisi complessa e lo faremo con determinazione. Dobbiamo puntare a riqualificare il centro storico, andremo a riacquisire al patrimonio dell'ente tutte quelle case abbandonate e poi li ridaremo in vendita ad un euro per incentivare la presenza di giovani nel nostro centro storico e soprattutto con l'Università Gabriele D'Annunzio, la Facoltà di Architettura, abbiamo avviato un progetto per redigere il piano colore e il piano luce del nostro centro storico, abbiamo tante idee, quindi chiediamo appunto un sostegno per realizzarle. Dal primo ottobre parte il bando per accedere alle agevolazioni tari, a comunicarlo il Comune di Chieti che tramite un finanziamento ministeriale potrà venire così incontro alle esigenze di privati e di attività con partite IVA. Grazie ad un fondo ministeriale di poco più di un milione di euro il Comune di Chieti avverrà un bando che consentirà ad utenze pubbliche e private di avere agevolazioni sulla Tari, un provvedimento che come dice il Sindaco conferma la vicinanza a quella cittadinanza colpita maggiormente dalla pandemia. Capisco le proteste e molte volte anche il dispiacere di tanti cittadini quando si vedono ristrette la propria autonomia e anche le proprie finanze da provvedimenti che il Comune deve prendere, ma capiranno sicuramente che non sono provvedimenti fatti contro di loro e quasi per un senso di accanimento, ma solo e unicamente perché certe scelte sono obbligate. Le fasce in questione avranno dei criteri per accedere a queste agevolazioni. Per le domestiche è importante non avere un ISEE superiore a 10 mila euro, mentre per le attività con partita IVA si fa riferimento al calo di fatturato di almeno il 27% nel periodo aprile 2020-marzo 2021 rispetto all'anno precedente. Questo proprio per accogliere soprattutto le richieste delle associazioni di categoria che ci hanno chiesto proprio di scendere, di abbassare questo limite in modo da coinvolgere la popolazione il più possibile, è stato fatto, quindi veramente con sacrificio da parte dell'amministrazione, quindi cercando di accontentare il più possibile tutte le fasce. Le domande potranno essere presentate dal primo all'11 ottobre. Facciamo un appello alla cittadinanza a seguire tutto ciò che è scritto nel bando, a che possano partecipare ed avere quindi le agevolazioni. Il tempo a disposizione è di 10 giorni, ci sono anche i CAF disponibili a sostenere, a dare una mano nell'espletamento di quelle che sono le domande, quindi ai nostri concittadini diciamo di seguire alla lettera ciò che è scritto nel bando per appunto accedere alle agevolazioni. E ora agli eventi dopo l'edizione ridotta a causa Covid. Grande attesa questo fine settimana a Pescara per il ritorno della Maratona d'Annunziana. L'edizione numero 21 partirà come di consueto da Piazza Salotto. È un'altra di quelle piccole e grandi conquiste che l'era, potremmo dire quasi post-Covid, ci sta regalando. La Maratona di Pescara è riuscita a non fermarsi l'anno scorso, che era uno dei pochissimi eventi più importanti in Italia ad andare avanti, ad attuare un protocollo che poi devo dire abbiamo dovuto raccontare in giro per tutta l'Italia perché è stato veramente formidabile sia nell'implementazione sia nel risultato. Ricordo che non c'è stato nessun caso di positività, nessun tipo di problematica, si sono rispettati nonostante tutti i controlli e tutti i parametri. Quest'anno invece abbiamo, grazie a Dio direi, il problema inverso perché tutta l'attività podistica, gli sport all'aperto individuale sono ripartiti, quindi abbiamo un sacco di concorrenza ma ancora una volta continua a crescere nei numeri e proprio nel gradimento. Novità di quest'anno? Tra le novità di quest'anno lo voglio dire perché tanti ancora lo chiedono, abbiamo reinserito la staffetta che l'anno scorso avevamo dovuto togliere proprio per cercare di limitare le tante iscrizioni, quest'anno siamo riusciti a reinserirlo, chiaramente peserà sul bilancio totale perché abbiamo dovuto limitare le iscrizioni sulla mezza e sulla maratona, però è stato veramente un bel reinserimento e altra cosa molto bella che secondo me l'abbiamo provata l'anno scorso con numeri esigui data proprio l'andamento dell'anno scorso che era completamente diverso e lo riproporremo quest'anno l'anticipo della gara bambini e della passeggiata al sabato, quindi sabato pomeriggio a Piazza Salotto dalle ore 17 alle ore 18 ci saranno tutte le gare bambini e ci potremo finalmente dedicare, tutta l'organizzazione si potrà dedicare a fare il meglio per i nostri piccoli, poi partirà la passeggiata che ricordiamo raccoglie fondi per ISAV e l'ILT, domenica poi saremo tutti in strada per la parte agonistica. Quanti partecipanti sono previsti? Allora il numero massimo è di mille persone per tutte le attività agonistiche, quindi maratona, mezza maratona e staffetta e già da qualche giorno abbiamo raggiunto, di fatti abbiamo chiuso le iscrizioni, stiamo cercando di recuperare qualche chip ma senza andare troppo oltre perché è quello il numero per i quali gli spazi e anche l'organizzazione è pronta a sostenere un risultato che possa essere il migliore possibile. E questa notizia ci porta alla pagina dello sport, parliamo di calcio di Serie C, due volte in svantaggio in balia del Gubbio, del Furetto Arena che ne ha fatto a pezzi la difesa, il Pescara esce comunque indenne da Gubbio grazie alla doppietta di Luca Clemenza, il 2-2 del Barbetti costa però il Primato e Biancazzurri staccati dalla Reggiana e superati dall'Ancona Matelica. Paolo Renzetti. In terra Umbra il Pescara manca la terza vittoria su tre in trasferta ed è costretto ad accontentarsi del pareggio al cospetto di un ostico Gubbio, finisce 2-2 al Barbetti, in terra Umbra l'undice Adriatico ha sofferto e rischiato anche di crollare riuscendo però due volte a riprendere l'avversario. Con la Reggiana domenica prossima all'Adriatico Giovanni Cornacchia ci vorrà però un'altra partita. Auteri lancia a centrocampo Rasi per Zita e soprattutto in attacco a sorpresa Marilungo per Dursi, torna Clemenza con De Marchi centrale d'attacco, in difesa c'è Frascatore al posto d'ingrosso, la squadra di Torrente in campo con il 4-3-3. Serata fresca in terra Umbra con il rosso-blu che partono forte dopo due tiri dalla bandierina trovano al settimo minuto con un autogol di Drudi su tocco di Arena, il vantaggio. Ingenuità grossolana del Delfino che incassa ancora un gol in campionato e che inizia male così come è accaduto anche nel match con la Viterbese. La squadra di Auteri accusa il colpio al dodicesimo in Arena ad alzare di poco sopra la traversa, la velocità e l'intensità dei padroni di casa mettono in evidente difficoltà agli abruzzesi mai pericolosi dalle parti di Ghidotti. Al 27esimo Marilungo in area allarga troppo il compasso e mette la sfera a lato, Auteri sprona i suoi ragazzi e al 37esimo Clemenza al termine di un'azione confusa riesce in area a due passi a toccare il pallone e a mettere la sfera alle spalle di Ghidotti. Ristabilita la parità al Barbetti con i biancazzuri che chiudono in crescendo il primo tempo che finisce 1-1. Nella ripresa al decimo Arena approfitta di una punizione non fischiata al Pescara e si presenta tutto solo davanti a Di Gennaro mettendo però a lato al quindicesimo Migliorini sugli sviluppi di un corner di testa. Sfiora il gol con Di Gennaro impietrito sulla linea di porta. Rischiano i biancazzurri in un avvio di secondo tempo a troppo molle e così al 17esimo Memushai va a toccare Arena in area di rigore con Moriconi che indica il penalty. Dagli 11 metri Cittadino non sbaglia per il 2-1 per il Gubbio. Nuovamente tutto da rifare per i biancazzurri ancora sotto e quasi impotenti al cospetto di un Arena giocatore che lo scorso anno militava in Serie D. Il Delfino soffre con Uteri che al 25esimo spedisce sul terreno di gioco Di Ambo e Dursi per Marilung e Rasi. Il Pescara passa così al 4-3-3 in un finale di partita che al 29esimo vede la parata di Ghidotti su conclusione a giro di Di Ambo. Spingono gli ospiti con Clemenza che poi al 32esimo si inventa un erogol regalando la sua squadra, la rete del nuovo pareggio. Al 33esimo arriva il turno anche per Ferrari in campo al posto di De Marchi con i biancazzurri che spingono e con Zappella nel finale al posto di Clemenza. Come terzo attaccante non accade però più nulla con il 2-2 che fa scivolare il Pescara al terzo posto in classifica. Il Teramo rimanda di nuovo l'appuntamento con la vittoria a Lucca. La squadra di Guidi strappa un pareggio 2-2 decisivo l'innesto di Cucurullo che ha siglato la definitiva parità. La vittoria della Fermana fa scivolare però il diavolo all'ultimo posto con la Viterbese. Squadra che il Teramo affronterà proprio sabato al Bonolis. Jacopo Forcella. Un pareggio a Lucca con tanti gol e probabilmente qualche rimpianto. Il Teramo torna dal Porta Elisa dimenticando il doppio stop con Vispeso Reymolese anche con la sensazione che la battaglia toscana avrebbe potuto portare due punti in più. Guidi sceglie a Ziosmanovic a sinistra e a destra e il resto è confermato mentre dalla parte opposta Semprini e Fedato sono supportati da Gibilterra tra le linee per dar fastidio a quella Rigoni che ci mette 6 minuti per sbloccare la gara. Benzaia entra su Malotti e la punizione del capitano Biancorosso bacia la traversa prima di infilarsi in rete. Col pallone che entra ulteriormente quando vi era un difensore lucchese franano sulla sfera. Ma la rete è tutta di Arrigoni. Diavolo in vantaggio ma i palloni di casa ci mettono poco a riorganizzarsi. Semprini ci prova dalla distanza senza far male a Tozzo. Molto più pericoloso invece al minuto 11. Col colpo di testa imbeccato da Fedato che l'estremo ospite tiene lì anche perché centrale. Al dodicesimo è Eclu a girare alto un corner battuto da Benzaia, pallone sopra la traversa. Il Teramo fa fatica a ritrovare le distanze e in un minuto perde soprano per un problema muscolare. Al suo posto entra Bellucci e subisce il calcio di rigore che Taricone fischia senza dubbio alcuno per l'intervento e il ritardo di Arrigoni su Semprini in area. Massima punizione indiscutibile. Confedato che spiazza Tozzo e riporta il match in parità. La Lucchese continua a spingere, Benzaia però è ampiamente impreciso, minuto 33, quando prova la conclusione è liftata da distanza siderale. Nei rossi e neri è sempre Semprini il più pericoloso. Al 39esimo gira ancora una volta centralmente di testa un traversone dal lato destro del campo. L'ultima occasione del primo tempo è di Fedato che raccoglie un suggerimento di Eclu, chiuso male dalla difesa del diavolo, ma il destro volante trova solo l'esterno della rete. Nella ripresa ancora padroni di casa con Gibilterra per Eclu. Tozzo e Piacentini ostacolandosi quasi lasciano strada libera alla Lucchese che tuttavia passa al 56esimo sull'ennesima seconda palla. Stavolta Eclu controlla e lascia partire un destro che trafigge Tozzo e porta in vantaggio la Lucchese. Mazzata terribile per il Teramo che non si perde d'animo. Guidi inserisce Cucurullo e sarà la mossa decisiva insieme a Rillo perché da loro passerà l'azione del pareggio. Entra anche Birligea per Rosso col 21 che va a fare l'esterno Mancino, ma è tozzo dover salvare i suoi sulla bordata ravvicinata, benché da posizione defilata ancora di Semprini. La reazione ospite al 73esimo con Bernardotto che fa sponda proprio per Cucurullo, diagonale che passa al lato di Coletta che tira un sospiro di sollievo, ma è l'antipasto del 2-2 che arriva al minuto 83. Rillo disegna una parabola perfetta da sinistra che trova l'inserimento proprio di Cucurullo. Piatto destro che Coletta trova coi guantoni, ma la sfera impatta sul palo ed entra in rete per il primo gol tra i professionisti del giovane centrocampista. Lucchese all'86esimo pericolosa con il neoentrato Belloni, Frigerio lo pesca in area, ma la traiettoria è imprecisa e fissa un pareggio che il Teramo conquista spezzando una serie di due sconfitte consecutive. I punti diventano tre in classifica, il pericolo almeno per oggi è scampato, ma sabato la gara con la Viterbesi al Bonolis sarà assolutamente da non sbagliare. Grazie a tutti.